Presi, il liceo scientifico svolgerà un ruolo importante attraverso i propri studenti in questa edizione delle vie dei tesori? Sì, siamo proprio orgogliosi di essere stati scelti dall'ufficio scolastico regionale come liceo linguistico di Sciacca, unici nella città, proprio per la partecipazione attiva all'iniziativa del festival dei vie dei tesori. Tutto il mese di ottobre, nei weekend, i nostri ragazzi saranno impegnati a fare da guida, a far scoprire questi tesori nascosti, talvolta alla gran parte della cittadinanza che Sciacca detiene in termini di monumenti, di siti e quant'altro. Cristin, quanto è importante per voi questo approccio con il bello della città ma anche con quanto è rilevante da un punto di vista storico, architettonico? Allora, sicuramente per noi studenti sarà un'esperienza formativa in quanto ci permetterà di mettere in pratica quell'apprendimento teorico che già facciamo a scuola, noi studenti del liceo linguistico, quindi delle lingue francese, tedesco e inglese e poi sarà ovviamente un'opportunità per apprendere, conoscere di più i monumenti della propria città, soprattutto io che sono pendola e non sono di Sciacca, mi piacerebbe conoscere appunto questa città che è frequento, in cui ogni giorno vado. Grazie